cari amici di mille un'avventura finalmente abbiamo superato la quota di 900 iscritti è stata dura nell'ultima settimana perché si arrivava 899 poi si scendeva continuamente era uno stilicidio di iscrizioni e disiscrizioni qualcuno evidentemente si divertiva ma finalmente abbiamo superato i 900 iscritti e poi ringrazierò personalmente il novecentesimo iscritto o meglio il novecentunesimo perché in effetti il novecentesimo non so per quale motivo non mi è comparso e allora per ringraziare tutti questi iscritti lanciamo una nuova serie visto che abbiamo finito la serie che riguarda la nostra avventura testuale per l'IFCOMP 2021 e aspetteremo metà novembre per riparlarne e vedere un po' come è andata lancio una nuova serie nel senso che ho visto con le ultime dirette che ho fatto che tutti questi assets che riguardano unity e che ho collezionato nel corso del tempo cominciano a essere interessanti perché si realizzano delle scene abbastanza quasi professionali come videogioco tripla perciò nelle ultime dirette avete visto queste questi scenari che riguardano Tarkov o meglio un tentativo di simulare le atmosfere di Tarkov però quello che voglio fare in realtà proprio per rendere la cosa ancora più interessante sperare di concluderla e di non lasciarla a metà come capita spesso su questo canale ho pensato di riprodurre qualcosa di notevole e vedete qui la scena di apertura di guerre stellari episodio quarto una nuova speranza del 1977 mitico un culto un cult vero e proprio non un culto la scena iniziale vorrei riprodurla con un gioco e gli assets che abbiamo raccolto in questi di questi tempi non in questi ultimi tempi come vedete la scena iniziale che volevo riprodurre non è questa ma sta per arrivare è quella in cui c'è l'assalto delle degli stormtrooper alla nave corelliana dove c'è sopra la principessa leila quindi ci sarà questa parte qui e come ringraziamento ai 900 iscritti proveremo a riprodurre vediamo di arrivare al punto che ci interessa qui c'è l'assalto ecco qui ecco da qui in poi ecco praticamente partiremo da qui con tutti i nostri ribelli che stanno aspettando l'assalto degli stormtrooper e poi c'è l'esplosione con la appunto la porta che il portellone che salta e l'ingresso degli iconici stormtrooper e faremo anche in modo che possano sbagliare continuamente il loro i loro spari diciamo come gli stormtrooper ci hanno abituati quindi hanno fatto qui apparentemente una strage ma in realtà con tutti i colpi di laser che hanno sparato non si capisce come possa qualcuno ancora riuscire a scappare da questi corridoi ecco questo è vogliamo riprodurre una scena del genere ecco che adesso vediamo la mira infallibile degli stormtrooper tutti stanno in piedi i droidi passano come se niente fosse e quindi cercheremo di riprodurre questa cosa interrompiamo quindi la scena e come faremo ecco abbiamo già mostrato in qualche video precedente certi assets che costano si può dire lira di dio a questo punto perché 232 euro per questi assets sono una cosa esagerata ma per fortuna siamo riusciti a recuperarli in modo quasi gratuito non dico che non si è speso nulla ma pochi euro in confronto a questi 232 euro e ci sono davvero degli assets interessanti perché ricordano un po gli stormtrooper ci sono anche degli alieni quindi potremmo grazie a questi modelli davvero tentare di riprodurre la scena che abbiamo visto prima ci sono anche queste scene o meglio questi modelli che facevano parte dello stesso pacchetto vedete 71 euro se li andiamo a sommare a quelli di prima sono più di 300 euro ottenuti per pochissimi euro e bisogna tenere d'occhio humble bundle perché davvero è molto conviene insomma perché se uno vuole usare oggetti originali non vuole trovarli copiati come si trovano in giro ecco con humble bundle si riescono a ottenere belle cose se poi uno si diverte a sviluppare è utile appunto approfittarne ecco qui chiaramente ci sono altri modelli che ci permetteranno di ricreare i corridoi della delle nostre sparatorie e avevo già mostrato in un video alcuni di questi modelli all'opera perciò se hai già visto lo stormtrooper qui che cammina che si muove però vogliamo metterne tanti all'interno di un corridoio e tentare di realizzare delle sparatorie vere e proprie dove i personaggi nemici cadono e vengono colpiti magari molto meglio di come vi ho fatto vedere nella live ieri sera dove per una scorciatoia che ho preso i bug si sprecano queste atmosfere poi ci ricordano tantissimo star citizen infatti vedete qui c'è una un gameplay di star citizen che non interessa nessuno 26 visualizzazioni stranamente star citizen un gioco così costoso poi metti dei dei gameplay sul canale e nessuno se li guarda si vede che appunto non interessa più di tanto però in effetti un gioco tripla come può essere star citizen questi modelli insomma sono praticamente indistinguibili da questi e allora ci proviamo vediamo fino a dove arriviamo e la promessa per i 900 iscritti è quella di finire il lavoro questa volta non come ci capita spesso e in effetti altri lavori li abbiamo finiti quindi abbiamo buone speranze perché non so se vi ricordate questo deepest dungeon che aveva partecipato a un concorso su core games questa piattaforma dove si creano giochi in modo molto semplificato e avevo creato effettivamente un dungeon infinito che non terminava mai ma poteva essere considerato quasi un gioco completo poi abbiamo finito la nostra entry per leaf comp 2021 perciò vediamo se riusciamo a ricreare questa scena di guerre stellari e per farlo mi servono dei dungeon non posso usare il sistema che avevo utilizzato per deepest dungeon perché questo era realizzato con lua un linguaggio di programmazione particolare devo usare c sharp per realizzare questo questi dungeon perché l'idea è quella appunto di creare un gioco il più possibile completo intanto qui sta arrivando dart faner che si sta guardando un po il disastro che ha combinato e l'idea perciò è quella di avere un dungeon con questi pareti tutte quante in stile fantascientifico attraversarle incontrare dei nemici magari raggiungere degli obiettivi ricuperare qualcosa per poi riuscire e allora abbiamo proprio bisogno di situazioni interrompiamo qui altrimenti ci si blocca tutto di situazioni molto simili a quelle che avevamo già realizzato qui con deepest dungeon prendere degli oggetti attraversare dei portali andare a vedere di recuperare mediante opportuni segnali gli oggetti che dobbiamo recuperare e per fare questo dobbiamo usare dicevo c sharp e stavo appunto vedendo per concludere il video se esistono dei dei dungeon già pronti e qui ne vedo parecchi cercando su dungeon generator ne compaiono direi 8 di quelli gratuiti ovviamente non vogliamo metterci a spendere soldi per concludere questa cosa e di questi gratuiti mi sembra che tre possono essere utili perché vediamo un attimo di ingrandire allora qui ce n'è uno molto schematico bisognerà poi lavorarci per appiccicare le pareti i corridoi le finestre che diano sull'esterno per far vedere anche un po di ambientazione esterna però in effetti qui c'è un generatore che funziona bisogna solo tra virgolette aggiungere le pareti i soffitti eccetera molto più bello questo però mi devo ricordare di ecco molto più bello questo che pure gratuito mi stupisce perché guardate questo dungeon generator come no non era questo il più bello si è questo allora vediamo un attimo di mostrare il pezzo interessante magari lo mettiamo ecco a schermo intero ecco si possono generare sei diversi tipi di dungeon e guardate come è bello in pratica è quello che vorrei per questo gioco che creiamo per il novecentesimo iscritto e ovviamente la nostra ambientazione è totalmente diversa un'ambientazione fantascientifica vedete che una volta che si passa da una stanza all'altra viene distrutto distrutta la stanza precedente creata una nuova e il giocatore non se ne accorge perché tanto sta guardando sempre avanti probabilmente se tornasse indietro verrebbero ricreate le stanze che erano a disposizione perciò direi che questo è il sistema che userò vediamo se è davvero facile da usare come come sembra in questa in questa in questo video ce ne sarebbe ancora un altro vediamo se vale la pena però qui non ci sono video che l'accompagnano però si vede appunto un dungeon generato simile a quelle di deepest dungeon quindi in pratica quello che faremo prossimamente in questo in questi in questa serie intanto qui la principessa leila ha passato i dati della morte nera a c1p8 ecco quello che faremo è ricreare un dungeon dove fantascientifico dove ci saranno questi soldati questi stormtrooper che attaccheranno e noi come personaggio dovremo muoverci all'interno di questi di questi tunnel per cercare di recuperare oggetti e uscire senza danni cosa che ci riuscirà facilmente visto che gli stormtrooper hanno questa mira scadente grazie ancora per i 900 iscritti e speriamo di arrivare a 1000 al più presto prendiamoci questo obiettivo cerchiamo di arrivare a 1000 prima della fine dell'anno vediamo se ci riusciremo grazie ancora a tutti ci si rivede in uno dei prossimi video ciao ciao